Lo avevamo detto in tempi non sospetti che con la Tares ci sarebbe stata confusione ed errori e la confusione c'è stata dagli sportelli di banche ed uffici postali, ma pare ci siano forti riserve sui calcoli della Tares perché la legge parla di superficie calcolabile all'80% su quella nominale ed anche sui margini che i comuni avrebbero, ma non si sa se li utilizzeranno per far risparmiare qualcosa ai cittadini. Allora Dottor Carrella perché insistiamo tanto sulle imposte locali? Tutto questo Dottor Primicello lo diciamo perché occorre naturalmente da parte dei contribuenti riversare l'obolo per cercare di coprire il 100% del costo legato alla filiera dei rifiuti, 100% che naturalmente è imposto dalla legge, poi ci sono tanto per far capire qualcosa ai nostri amici telespettatori e che ci sono per esempio nel caso specifico di Salerno un importo che intorno ai 38 milioni e 500 mila Euro il costo della filiera, mentre viene richiesto ai contribuenti 35 milioni, chiaramente occorre capire quella differenza che cosa è dovuto, probabilmente ci sono delle situazioni un po' scure dove però non è possibile ravvederli, individuarli nel piano economico finanziario che il Comune stesso è tenuto a far approvare il Consiglio Comunale, ma come far risparmiare ai contribuenti l'eventuale maggiorazione della tares? Ci sono degli elementi che probabilmente alcuni comuni ne hanno considerati altri no, per esempio c'è un riferimento di un decreto ministeriale del 2000 dove praticamente darebbe possibilità ai comuni di recuperare, attenzione, per le spese di trasporto l'IVA relativa e questo è già un aspetto importante perché pensi un po', considera la possibilità di andare a recuperare quella parte di costo e chiaramente non ribaltarla ai contribuenti. C'è anche da dire un'altra cosa, l'intervento da parte del Ministero della pubblica istruzione perché ci sono le scuole primarie che praticamente vedono rimborsato da parte del Ministero questa quota parte della tares e chiaramente i comuni lo dovrebbero considerare nel costo totale eliminarlo dal debito chiaramente, considerando però la stessa superficie in modo da rendere più omogeneo e soprattutto più contenuto l'onere. Ci sono poi anche altri aspetti che sono stati richiamati dalla Monti quando ha introdotto la 201 del 2011, l'articolo 14, il riferimento appunto alla nuova imposta, la nuova tares, dove laddove ci sono poi dei ritorni da parte del Comune per l'effetto dello smaltimento dei rifiuti stessi, quel contributo naturalmente andrebbe in qualche modo tolto ai contribuenti perché è un aspetto, un provento da parte dell'ente che naturalmente considera ai fini della riduzione del costo totale. Che cosa dire e non dire? Chiaramente ci sono anche altre situazioni, per esempio, tenga presente che ci sono naturalmente i contribuenti che pagano regolarmente, che pagano anche per quelli che chiaramente i cosiddetti evasori fissi. Questa massa di evasione deve essere considerata nel costo, però una domanda, un interrogativo la poniamo. Laddove si procede poi successivamente attraverso le società oppure attraverso la riscossione e gli accertamenti da parte del Comune al recupero degli anni pregressi di questa imposta, in considerazione che non può superare il 100% il costo del servizio, i contribuenti potrebbero rivendicarne una quota a parte e quindi si aprirebbero poi delle situazioni in contezioso imbarazzante da parte dei Comuni dove praticamente devono rimborsare la quota anticipata dagli altri contribuenti, lì naturalmente al dovere che gli impone. Per fortuna, chiudiamo, c'è però il corpo di Polizia Municipale, laddove ci dovessero essere inondate questi locali dei Comuni, Grazie a tutti.